Il backstage Il regista oggi fa anche la capotecnica Possiamo vedere un tipico problema in teatro quando si usano dei piazzati bianchi col filo al tungsteno quindi con una temperatura colore bianca di 2800-3000 Kelvin e un videoproiettore che proietta la luce bianca ad una temperatura diversa La lampada del videoproiettore, come vedete, appare blu eppure in sala è bianca perché il bianco del videoproiettore non è a 2008 ma sarà a 4.800-5.000 e quindi il problema del regista è sempre quello di cosa bilancia in questo caso Devi togliere il colore Ritagli, insomma, il modo di lasciare la persona nera però... Non è possibile che abbiano finito le videoproiettore? Sì, ce ne erano due E noi diamo una rappresentazione della realtà Non è mai la realtà Grazie per la visione! Grazie a tutti